Sì, sì, bravi italiani, continuate a litigare nel rezinto, a parlare soltanto del vostro paese vario-pinto. Parlate, parlate solo dei vostri problemi interni, così è facile dominarvi da fuori, farvi servi. Finché penserete che il problema è soltanto lo Stato, non comprenderete il grande pregolo situato nel privato. Esempi? Gli incrementi dei deficit, delle partite correnti nella bilancia dei pagamenti. Dal 2002 al 2010 noi solo pregi, voi solo i difetti commerciali come quelli che cresci. E per difendere uguali e colmare tutti i differenziali, dovremmo fare un'unione con trasferimenti fiscali interregionali. Ma noi siamo già divisi in Germania, figuriamoci se vocoliamo di fidere i debiti con l'Italia. Essere competitivi è ciò che importa, è solo chi offre prezzi bassi e sporta più di quanto importa. E perché un prodotto costi meno, sempre meno, dobbiamo essere affari con spese pubbliche e salari. Salazarvi e tasarvi dicendo che siete pigri, spendazioni, cicioni, età fino a dieta tra poconi. In Germania i Draghi sputtano miliardi per salvar le banche dai mercati. Cosa dicono i mercati? Contra comprati! Contra comprati! Contra comprati! Contra comprati! Contra comprati! Contra comprati! con gli individui, per questo non ne capite gli squilibri, una volta regnava il re, un solo uomo al coferno, ed il suo potere era confuso con il ruolo paterno, per cui erano disprezzate spese indepitate, se chi spende più di quanto prende, raramente può essere un buon padre, ma dovreste avere imparato, che l'economia della famiglia non vi spiega quella dello stato, non è un oikos, quindi non è oikosnomia, solo un porco pensa così, e poi l'economia, ed è la fine degli stati, vedete? No! Voi lottate contro i loro spettri, tezzate alla parete, e non fa boom, fa crack, non fa boom, fa crack, fa crack, hai capito la battuta? Non fa boom, fa crack, bush, boom, crack, barack, boom, crack, bush, boom, crack, I.J.S.L. blum, on the track! E.J.S.L. blum, on the track!